ciao ragazzi benvenuti sul mio canale youtube io mi chiamo victorius mark e oggi vi porterò a fare insieme una review sul ristorante seguitemi adesso siamo io e bevi non so se c'è voglia di farsi vedere devo censurare? si censurami metti i pixel tipo i porno cinesi ok ora metterò anche i pixel e niente adesso raga siamo siamo a milano in zona porta gi no minchia non l'avevo capito c'è gente che non lo sa che siamo di milano figa non si sente che siamo di milano vabbè stiamo cercando un posto per andare a mangiare che sexy minorenni mi sa che era minorenne anche secondo me we go to jail man amore ci siamo? abbiamo scelto la trattoria ponte rosso e adesso sceglieremo qualcosa da questo ponte rosso? a trieste c'è un sacco di vento a trieste dipende da quando vai oh qua benessere raga come ci trattiamo bene eh porto a mangiare la mia pussy eh rega ok rega questo qua è il piatto e niente ora e niente ora me lo mangerò e andremo a fare una review su quello che andrò a mangiare ah il piatto è croccante di bufala con ok vai pure dai ti faccio un paio di domande baby cosa ti piace di più di milano cioè la gnocca va beh zì qualcosa oh guardate i clandestini raga sono arrivati i clandestini raga sono arrivati i clandestini raga stanno sbarcando qua a milano sono arrivati dal laviglio ok ragazzi stiamo facendo la seconda review su una tagliata di manzo giusto? manzo rucola e parmigiano rucola e parmigiano tagliata di manzo ok raga la tagliata di manzo ce la siamo mangiati ora ok i piatti di manzo qua sono finiti 4 e 20 è schere e niente a breve vi farò la review appena usciamo da sto posto io pensavo di uscire senza pagare però mi sa che è ancora illegale in sto paese quindi non si può non si può ancora siamo abbastanza gentleman siamo brava gente ragazzi ci siamo scannati una boccia qua al volo vernaccia casa nuova un po' troppo potente no devo dire che è davvero buono sto vino cioè un po' potente un po' potente cioè da bersi di sabato pomeriggio a quest'ora da bersi lunedì mattina lunedì mattina prima di andare a lavoro sarebbe un bel toccasana è tutta la settimana è tutta in discesa una sola disoccupazione penso dico disoccupazione verso il tfr diciamo chi è che staresti catturando l'etro? squirtone ragazzi vediamo se entra raga uno merda raga è fortissimo questo è l'importante raga divertirsi sorridere sempre ciao ciao Grazie.